Amici della pallina vulcanizzata, ben collegati in diretta con il pallalido di Valdagno, questa sera Y Sport Hockey Valdagno incontra il Telea Medical Hockey San Drigo, uno dei tanti derby della provincia vicentina. Se può liberarsi per Neves, ancora gioco Neves, cerca il tiro, rispostona, palla che arrivava in mezzo alle gambe. Vi dico la verità, essere gli unici commentatori, non avere pubblico è una bella responsabilità per tutti quelli che ci seguono in diretta, sia da... Eccolo lì, attenzione! C'è subito il gol! Eh sì, spagnolo di nascita, ma assolutamente italiano di adozione. Attenzione, Tonci, bello lo scambio col Piro, e la mette! C'è il raddoppio di Tonci, prova a liberarsi, ancora il Tonci, c'era un patinone palo! C'è il palo di Davide Piro lì, che scarica per Tonci di Oro, attenzione, cerca il numero, era lì da solo Andrè Centeno. Ancora Pajares dentro per Pozzato, che si gira palo, clamoroso palo anche. Cari spazi, lì laterali, mezzo blocco, ancora Neves, c'è l'alza e schiaccia, va! Bel tentativo, Marco Poleto, marca anche lui, qua ce ne sono un sacco in pista. Tanto Valdagno che mischia un po' le carte, col Tonci di Oro! E c'è il gol di Andrè Centeno! Che è una bella partita, è un bel Valdagno. Tonci di Oro, Brendolin, ma chi prova? Sotto, Scigliero ruba palla, molto bene, due contro uno. Attenzione, ci prova ancora il Tonci. Bruno Sgaria, ancora va giù Vasquez, si fa cocere un'altra volta. E poi lì, sulla ribattuta, ancora in capitale. Poi ruba palla proprio a Piroli, attenzione, Cacau! Gli dice di no, grandiosa parata qui. Spider Boy Sgaria a dire di no. E dall'altra parte, gol sbagliato, gol fatto! Assiste Centeno Cocco! La caccia lì, non trova la porta, non trova la porta Andrea Brendoline. Ci riprova subito, poi va giù. Come in questo caso, la mette lì, Andrea! Buon gioco la difesa vandagnese che può liberare Mattia Cocco, che vede Brendolin. Bello dentro l'assiste, c'è il gol! Il gol di Andrea Centeno! A dire di no alla possibile traiettoria. Attenzione! Ancora c'è Tonci di Oro, la mette lì per Cocco! Mamma mia! Troppo facile qua! Ha dato fuori la pallina quel tanto che basta! Colpo di testa! Il colpo di testa di Bruno Sgaria! Valdaglio Carrietta, oggi! Quasi, miracola ancora Mirra! Ancora dentro pallina, ce l'aveva quasi! Formazione di casa dal dischetto. Prova ancora Centeno. La mette ancora Andrè Centeno! Vasquez contro Bruno Sgaria. Può partire Vasquez. Ci prova Vasquez! La mette! La mette Vasquez! Mark Vasquez! Vasquez che ci prova! La visiera di... La Bauer 3 di Bruno Sgaria. C'è... Pippa Fongara vediamo un po' adesso. Due contro nessuno! Vasquez! Troppo facile qui! Disattenzione! Ci riposiziona Pippa Fongarao. Ancora Piroli cerca la botta! Si prova anche Zordano. Trova la guantone di Dalmonte. Finisce qui questo derby. Valdaglio... Valdaglio... Il telea media e il calochi Sandrigo. 9 a 2. Grazie!